Era una realtà molto diversa dall'attuale, senz'altro un poco più piccola, e quando il modo di gestire il paverano era diverso da adesso. Voi sapete che nei suoi inizi, sto parlando degli anni, fine degli anni 30, anni 40, il paverano era gestito quasi esclusivamente dalle suore. Quando Don Orione ha comprato il paverano, ha fatto poi venire le suore e in blocco sono arrivate 33 suore. C'erano i grandi saloni, allora c'erano le grandi camerate, e nella vita di Suora Plautilla, che è stata qui, e ora è una suora venerabile, quindi la possiamo pregare, nella vita di Suora Plautilla si diceva che in ogni padiglione c'erano quattro suore, e i padiglioni erano di circa 50, 60, 70 malati, e c'erano quattro suore. Due che lavoravano 12 ore insieme, e le altre due che lavoravano le altre 12 ore insieme. Quindi da mezzogiorno a mezzanotte, da mezzanotte a mezzogiorno. Questi erano i turni e questo era il sistema di allora. Però c'era qualche Suora che non ce la faceva, c'era qualche Suora che per la fatica, anche per l'emotività psicologica che richiede un lavoro di questo tipo, non ce la faceva. E invece vedevano che questa Suorina piccolina, piuttosto minuta, dopo aver fatto le sue 12 ore, se la chiamavano per degli straordinari, era sempre pronta, non era mai stanca, diceva sempre il suo sì. E allora una volta una sua Suora, una sua consorella, gli ha chiesto, ma dandogli del voi come si faceva una volta, e gli ha detto, ma Suor Plautilla, come fate ad essere sempre così pronta? Come fate a non essere mai stanca? Soprattutto quando vedevano questa Suora inginocchiata davanti agli ammalati per lavarli, per pulirli o per suggerire qualche parola buona. E lei, nella sua semplicità, ma è la semplicità dei Santi, rispondeva, ma è molto semplice, io parlo, vedo il Signore e il Signore mi risponde. E questa era la sua forza. Quindi vedete che è un dono ovviamente particolare, ma qualcuno ci è riuscito ad averlo, e chissà che qualcuno in quest'anno non riesca a fare un'esperienza di cielo a contatto sulla terra con questi poveri, per poter così sperimentare la dolcezza, l'amitezza, la misericordia, la presenza di Dio in mezzo a noi. Sarebbe un'esperienza bellissima. Perché ci tengo tanto a queste sette opere di misericordia? E ci tengo anche che tutti insieme cerchiamo di viverle concretamente? Perché in verità, parlo nel nostro contesto italiano, noi siamo molto abituati e siamo anche molto sollecitati a opere di generosità. Ma molte di queste opere ci rimangono un po' lontane. Faccio un esempio, un esempio concreto. Noi purtroppo abbiamo avuto l'anno scorso il terremoto nelle Marche, purtroppo è già il terzo, il quarto dal 2000 a questa parte, la nostra Italia sta ballando un po' troppo. E una delle sollecitazioni più importanti, e anche dateci in modo molto pressante, è stato quello di essere solidali. Come? Ecco allora che la RAI ha organizzato una bellissima manifestazione con Padre Pio, con Don Bosco, con tutti i Santi, e siamo stati sollecitati con il telefonino a fare un numero, così abbiamo dato due euro. Non è vero che ci sono queste modalità? Ebbene, e l'Italia, come sempre, in questo è stata generosissima, perché attraverso questo numero con i telefonini, due euro io, un euro e mezzo Don Alessandro perché è un po' spirorcio, e così via, ecco che tutti abbiamo raccolto milioni e milioni di euro che abbiamo dato per i terremotati. Molto, molto, molto bene. Però capite che questa modalità di vivere la prossimità, in questo caso proprio con l'affamato, proprio con l'assetato, proprio che con chi avendo perso tutto indossava solo quei vestiti che aveva quella sera e niente più, questa modalità non è una modalità prossima. È una modalità che magari ci commuove al momento, ci fa sentire solidali, ma è una modalità che non ci coinvolge, è una modalità che subito, con facilità, passa. Invece voi qui al Paverano, oppure a Castagna, oppure a Camaldoli, oppure a Bogliasco, o nelle altre case qui di Genova, avete il dono, più ancora di me, avete il dono di poter vivere questa realtà quotidianamente, a contatto proprio, come direbbe Papa Francesco, con la carne di Cristo sofferente, che ha bisogno di essere imboccata, questa carne di Cristo, ha bisogno di essere dissetata, ha bisogno di essere vestita, di essere cambiata, e così via. Ogni giorno, più volte al giorno. Vedete allora quanto esercitare queste azioni, esercitarle in piena umanità, esercitare nella fede, quanto questo ci coinvolga. E realmente queste azioni rendono Genova migliore, rendono il Paverano migliore, rendono ciascuno di noi migliore. dare da mangiare, quindi così, dare da bere così, qui ed eventualmente, anche quando siamo a casa nostra, molti di voi sono mamme, e quindi dopo le otto ore al Paverano, devono andare a casa, lavare, pulire, stirare. Ecco, questo si può fare, o come una condanna, oppure lo si può fare come un dono, ulteriore, per poter, attraverso questi gesti, ripetuti, ma ripetuti come delle note, ripetuti come una bellissima musica, perché i gesti che noi facciamo sostanzialmente sono sempre gli stessi, ma anche le note sono soltanto sette, eppure, quando vengono ben combinate, che musiche eccezionali producono queste sette note? Solo sette note. Ma se sette note producono delle sinfonie meravigliose, pensate, sette opere di misericordia. Quanta sinfonia umana, quanta sinfonia spirituale e celeste, queste sette opere sapranno produrre quest'anno, nella nostra vita, sul nostro posto di lavoro, nelle nostre famiglie, nella nostra città. Un'altra opera di carità è quella, non so, di accogliere il pellegrino, e anche questa è un'opera molto attuale. Noi sostituiamo la parola pellegrino, ad esempio, con migrante, e allora comprendiamo quanto questa opera di carità sia realmente attuale. E come si faccia fatica nello stesso tempo? L'abbiamo visto, no? Ecco, l'abbiamo visto perché in questa opera complessa, in questa opera difficile da gestire, quanti rifiuti ci sono stati. Addirittura, come Unione Europea, non siamo nemmeno stati capaci di accordarci per accogliere ciascuno un pochino di questi migranti per dare loro, quindi, un aiuto concreto. io sì, io no, io no per questo, io sì, ma soltanto se sono di questa nazione, e abbiamo combinato un grande brodo. Un'opera, dunque, vedete, molto, molto attuale. Un'opera così attuale, questa e le altre, ed è l'ultimo pensiero che vi voglio dire, che quando sono esercitate producono in noi un altro dono. Ora, il primo è quello di farci arricchire nella nostra umanità e vale per tutti. Il secondo dono è quello di aiutarci a entrare in sintonia con il Signore e sentire la sua presenza. ma vi è un grande e terzo dono per chi esercita le opere di misericordia ed è quello di imparare a vedere l'affamato, l'assetato, il migrante, il carcerato, l'ammalato non come li vedono gli uomini ma come li vede il Signore. Cioè, con una profondità e con una logica che non ci appartiene. Faccio degli esempi ma non voglio banalizzare ma è solo per fare degli esempi e nemmeno per diminuire il vostro lavoro. Sono soltanto degli esempi per cercare di comunicare quello che voglio dire. Cioè, noi rischiamo ad esempio di fronte ad una persona ammalata ecco, rischiamo di ridurla a come deve essere il letto a come si alza il letto a come si abbassa a quali tipo di medicine dare quante volte mezza una e perdiamo invece la complessità dell'insieme dove tutto questo è importante guai se i letti non sono comodi e guai se si sbagliano le terapie ovviamente un grande guai ma lo sguardo così penso che Dio ha nei confronti dell'ammalato nei confronti dell'affamato nei confronti del carcerato è uno sguardo più completo è uno sguardo che lo avvolge tutto di tenerezza e in questo avvolgere di tenerezza ecco che entra la medicina ecco che entra il letto ecco che entra la dieta da fare e così via ma in un contesto pieno in un contesto completo è il contesto dell'uomo che incontra l'altro uomo è il contesto di chi guarda l'umanità non con l'occhio tecnico ma con l'occhio invece di Dio è importante guardare gli altri con gli occhi di Dio certamente che è importante perché altrimenti il nostro occhio tende ad essere limitato magari molto specialistico ma limitato addirittura qualche volta facendo l'esempio dei migranti addirittura egoistico per cui nazioni di milioni di persone che non sono state in grado proprio perché il loro occhio non era in sintonia con quello di Dio non sono neanche stati in grado di accogliere poche centinaia di persone eccoci quindi lo sguardo di Dio è uno sguardo completo è uno sguardo avvolgente diventa realmente uno sguardo misericordioso bene chiediamo allora per intercessione della Vergine Maria la capacità anche noi di accostarci in questo modo agli altri io ho fatto diciamo così per pudore ho fatto esempi che riguardano i nostri ospiti qui ma pensate quanta premura quanto quanta visita reciproca ci sarebbe da fare ad esempio tra i colleghi noi vediamo quella collega sempre come quella che arriva in ritardo come quella che tutte le mattine ha un diavolo per capello ed è la più antipatica del reparto l'hanno vista così vent'anni fa chi lavorava prima di noi la vediamo noi e siccome la battezziamo chi verrà dopo di noi la vedrà ancora così non è vero qualche sorrisino lo vedo quindi vuol dire che è vero eccoci quindi per pudore non ho fatto questi tipi di esempio no e mi sono limitato a quello che è un po' più il nostro lavoro ma quanta fame di conoscenza quanta fame di vicinanza quanta sete di perdono esiste anche tra di noi quante volte siamo anche noi giudicati come degli ammalati perché anche noi abbiamo i nostri limiti e quindi gli altri ci giudicano ammalati e noi giudichiamo allo stesso modo gli altri ci sono anche tra di noi tante visite da fare cioè ogni volta che avete fatto questo perché mi avete visitato perché mi avete visto l'avete fatto a me abbiamo bisogno di vedere il Signore anche nei nostri colleghi abbiamo bisogno di vedere il Signore nei nostri superiori in coloro che vivono con noi il Signore ci dia questo sguardo nuovo la sfida delle sette opere di misericordia corporale sarà quella di esercitare ogni giorno gli stessi atti ma producendo uno sguardo producendo una vita nuova l'ultimo esempio poi basta mi sembra che l'esempio della fisioterapia vada molto bene ecco quando noi abbiamo un ammalato che ha avuto un ictus e quindi ha perso alcune funzioni ma voi mi insegnate così almeno io ho sentito ho letto che aiutando quell'ammalato ad alzare il braccio che non si alza più e facendolo un'ora tutti i giorni in un certo modo non soltanto il braccio si riattiva ma si ritorna la memoria di questo gesto e quindi poi ad agio d'agio anche se la mente è stata colpita ad agio d'agio poi finalmente ritorna la memoria ritorna la capacità di muovere il braccio ecco questi atti che noi facciamo dare da mangiare dare da bere vestire sembrano atti sempre uguali come la fisioterapia che è sempre lo stesso movimento che sembra non produrre niente ma in verità produce nella nostra memoria la dignità di essere esseri umani la dignità di essere figli di Dio e riproducendo in noi questa memoria ne sono certo la nostra vita diventerà migliore scusate per la lunghezza e grazie per avermi ascoltato grazie 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 grazie